Ciao ragazzi! Oggi voglio fare le mac and cheese, anche se stavolta non è che sono espertissimo, non so se la ricetta è giusta, però io ho letto così su un sito. Ci vuole farina, parmigiano, sottilette al formaggio cheddar, sottilette normali, burro, panna e ovviamente i maccheroni. Non li ho trovati in Italia, è impossibile, l'ho dovuto trovare solo in Inghilterra. Acqua. Acqua. Tanta. Allora intanto ho messo la padella, però in teoria si dovrebbe fare che appena acqua bolle metto i maccheroni. No, è praticamente appena sfornati devono essere messi qua dentro con la salsa, quindi a questo punto la salsa la faccio quando questa bolle, sono quasi pronti i maccheroni. Cazzo dimenticavo, mi sa che servono anche il pepe e la paprika dolce. Però, aspetta. Dovrebbe stacci. Questa che cos'è? No, cannella. Va bene, mi sa che mi sono scordato di comprare la paprika dolce. Va bene, dovrebbe... In effetti manco tutti le mettono, c'è altro che carbonara questo, talmente tante ricette che non avete idea, però... Mi spiace sta roba, speriamo che non c'è nella ricetta originale, perché io non la so, vi sono documentato sul sito, non uccidete. Prego. Perché le ricette originali, cioè, non esistono manco, c'è talmente tante. Vabbè, mi sono scocciato, non mi interessa, la faccio adesso anche se è l'acqua non c'è, quindi burro. Guardate, c'è il burro sotto a sciogli. Mettiamolo su tutto il piatto, eh. Perfetto, ho inundato tutto. Farina? Forse è troppa, non so se la metto tutta. Vabbè, direi che per adesso così va bene, non è vero, è troppa. Panna! Acqua bolla e sale, e questi. Forse, chissà, ho messo leggermente troppa acqua, vabbè, non mi interessa. Ragazzi, la panna l'avevo messa molto di più, però ho dovuto tagliare perché parlavano quella. Visto che il cheddar mi piace tanto, ne faccio due col cheddar. Menomale, pensavo venisse molto più grumosa, sono abbastanza bravo per essere la mia prima volta, dai. Cioè, cazzo, non potete dirmi niente. Parmigiano, ho lavato le mani o niente, ragazzi. Io penso che così possa abbastare, sì, in questo forse è troppo. Magari ce l'aggiungo a crudo se non mi piace, vabbè. Pronta! Madonna, con quale violenza è scesa. Non so se mangiare con la forchetta o col cucchiare, perché con la forchetta dura di più, però col cucchiaio c'è il porco due. Vabbè, yuhuu!